Eccola qua, scheda Yamazaki distillerie. Io direi proprio di partire subito da quello Michele, che ne dici? Ah sì, partiamo subito da quello lì perché così vediamo che ci sono già delle belle foto, un bel posto, anche questa. Diciamo che Santori quando ha creato le sue distillerie le ha fatte con carattere, le ha posizionate bene, perché anche questa distilleria qui, la distilleria Yamazaki, che è situata a Shimamoto, che è nella prefettura di Osaka, ma in realtà è molto vicina a Kyoto, perché si trova un po' sulla... Aspetta un attimo, scusa, scusami. Ci sei? Ok, perfetto. Ci so, ma ancora non mi ha aperto il file. Stavo praticamente mostrando la tua pagina Facebook. Oh, ciao ragazzi, se volete. Ma perché non c'è niente dentro? È vuota. Come non c'è niente? È un file vuoto. Possibile, te lo rimango in caso, se non ti aspetta. Zero byte. Vediamo un po'. Inviata. Ma era... Era un... Ah no, aspetta, lo sta ancora scaricando. Era Word, era Word. Tu vuoi te lo mando in PDF? No, è questa merda di... Mandamela per Facebook, invialo comunque per... Ok. Perché Chrome è una merda dal punto di vista dello scarico. Cioè non è tanto Chrome, è il mio sistema di posto elettronica su Aruba che fa schifo. Ti è arrivato. Allora, un attimo che lo apro. Scusate, fa vedere intanto che cosa sto mostrando. Ok, sto mostrando noi. Gestore streaming è di qua, questo è di qua, questo qui. Donna che palle. Allora, apro la finestra. Facebook. Complotto cancellano i file, esattamente. No, ma è quella merda, è un concorso tra Chrome e il sistema schifoso di Aruba. Di Chrome, scusate, di Firefox, non Chrome. Chrome funziona bene. Allora. Ok. Aperto, vediamo se lo apre. Oh, eccolo qua, meno male. Perfetto. Grazie Arianna per il 100 Beats. 100 Beats. Allora, la posizione. Vedete lì dalla bella foto della distilleria. Adesso non so se è arrivata. Ok, mettiamo un po' più avanti la cosa. Ok, distilleria Yamazaki. Questa qui è famosa. Vai. Possiamo partire. Hai sentito un po' se è aperta per quando vai a Kyoto? Hai sentito? È aperta e chiusa. Allora, se chiami il numero ti dice che è chiusa. Sul sito è aggiornato al primo aprile, ti dice che è chiusa. Al primo marzo ti dice che è chiusa. Vediamo magari, non so, il primo aprile, la settimana prossima, se si sblocca qualcosa. Per ora è chiuso. Yes. Come vedete, quella che vedete un po' lì in quella bella prima immagine è la distilleria Yamazaki, con le due belle torri anche qui in questa distilleria, costruita con grande carattere, come fa sempre Santori per tutte le sue distillerie. Vi ricorderete anche le torri che avevamo già visto della distilleria Akushu, anche quella perfettamente integrata nella natura. Anche questa, devo dire che nonostante sia una distilleria super moderna, è comunque integrata in un territorio tradizionale e con tanta natura. vi stavo dicendo prima che è situata a Shimamoto, che è in realtà nella prefettura di Osaka, ma è anche molto vicino a Kyoto. Si trova un po' nell'antica strada che collegava, diciamo, Osaka a Kyoto, tra il monte Tennozan e il monte Otokoyama, in un punto dove si incontrano esattamente tre fiumi, quindi selezionano per costruire le distillerie sempre dei posti, diciamo, dove c'è abbondanza di acqua di grande qualità. Abbiamo capito che uno dei requisiti è questo, per fare il whisky buono deve esserci, prima di tutto l'acqua buona e in grande quantità. Quindi anche qui hanno selezionato questa zona molto particolare, tra questi monti, quindi un po' racchiusa, tra questi monti con questo clima molto particolare, perfetto, diciamo, per la creazione e la maturazione del whisky, e, diciamo, la maturazione addirittura della distilleria Yamazaki. Cioè l'hanno proprio definita la maturazione Santori, capito? È diventata quasi un'icona, capito? Questa distilleria esiste dal 1923, quindi è assolutamente la prima distilleria di whisky in Giappone. Diciamo che per arrivare al 1923, magari ricordiamo un attimo, no, da che cosa viene il whisky in Giappone, no? Perché partiamo, diciamo, dai primi del Novecento, quando, diciamo, con i contatti con le prime popolazioni straniere che arrivavano un pochino più copiose in Giappone, è arrivato anche il whisky. È arrivato il whisky che era una bevanda che comunque la popolazione gradiva tanto e poi successivamente ci saranno degli imprenditori, e in particolare uno che vorrà creare il suo whisky per la prima volta. Diciamo che questa persona che introduce per la prima volta la produzione industriale di whisky in Giappone è Shinjiro Tori, che con l'aiuto di Masataka Takezuru, che poi vedremo chi è, creerà proprio la distilleria Yamazaki nel 1923. Praticamente Shinjiro Tori era un farmacista, ragazzi, era un farmacista che in seguito al successo della sua attività ha deciso di espandere un po' il giro di affari. Ha fondato questa società che all'inizio si chiamava Kotobukiya, che poi successivamente è diventata Santori, dedicata principalmente all'inizio all'importazione di liquori praticamente dall'Occidente. In realtà iniziò le produzioni nel 1907 perché aveva ideato un vino liquoroso che si chiamava Akadama. Akadama è proprio lì, alcuni dicono che venga proprio da quello il nome. E praticamente questa iniziativa ebbe successo e a quel punto Shinjiro Tori decise, anche contro praticamente i dirigenti dell'azienda, di voler andare verso la produzione locale di distillati, cercando di imitare quelli europei e quelli americani, diciamo. Quindi voleva creare la prima distilleria di whisky in Giappone. Riuscì a imporsi anche sul management dell'azienda e così riuscì a costruire questa distilleria nel 1923, la distilleria Yamazaki, ok? Comunque questo signore, questo imprenditore, era principalmente un imprenditore, Shinjiro Tori, no? Non aveva le competenze necessarie per avviare, diciamo, tutto quanto, una distilleria addirittura di whisky. Quindi cosa fa? Cercò qualcuno che avesse queste competenze, trovando questo giovane, questo Masataka Takezuro, e assumendolo praticamente come direttore della distilleria, e questo Masataka Takezuro lo aveva mandato a studiare in Scozia l'arte della preparazione dello scotch whisky, no? Poi rientrato in Giappone, diciamo, nei primi anni venti, fu coinvolto in questo progetto. Diciamo che i due cercarono di andare un po' d'accordo per creare questo nuovo whisky giapponese, questo primo whisky giapponese, ma non si trovarono del tutto, perché c'erano due pareri, diciamo, molto diversi. Cioè, Masataka Takezuro voleva creare un whisky intenso e potente, che fosse più simile, diciamo, alle espressioni che generalmente vengono prodotte dai whisky scozzesi, dagli scotch. Mentre Shinji Rotori aveva un'idea molto diversa. Lui voleva creare il whisky perfetto praticamente per il palato giapponese, ok? Il palato giapponese che non era abituato a quel gusto così forte, a quel gusto così forse anche troppo invasivo del whisky scozzese. Voleva creare un prodotto bello liscio, bello morbido ed elegante, insomma, per soddisfare i palati giapponesi. Quindi poi, alla fine, dopo circa dieci anni di collaborazione, cosa succede? Che ognuno prende la sua strada. Perché la cosa bella è questa, che non si sono mai trovati, ma sono stati insieme dieci anni. Dieci anni, nonostante, non si sono trovati. Ognuno prende la sua strada, diciamo che viene liquidato. Masataka Takezuro, con i soldi della liquidazione, va a fondare Nikka, che diventa poi l'azienda whisky rivale. E poi la storia del whisky giapponese a quel punto prende due strade, con queste due grandi aziende che si fanno concorrenza ancora tutt'oggi, insomma, sono i due principali produttori di whisky in Giappone. E anche qui, poi, il whisky giapponese, diciamo che all'inizio era una cosa un po' più per i salaryman giapponesi che andavano a farsi l'aiboru dopo il lavoro. Mentre nei primi anni 2000 si è iniziato a parlare del whisky giapponese anche nelle grandi fiere e il whisky giapponese ha iniziato a vincere anche tantissimi premi. E a quel punto cosa è successo? È successo che è scoppiata la vera e propria bolla del whisky giapponese, è diventato estremamente popolare ed è arrivato poi in tutto il mondo, consumando poi anche tutte le riserve che c'era di whisky invecchiato che adesso è molto molto difficile da trovare, bisognerà ancora aspettare qualche anno prima che si torni, diciamo, ad avere disponibili questi tipi di whisky. Però questa essenzialmente è un po' la storia del whisky giapponese ed è un po' anche la storia di come è nata questa distilleria Yamazaki, no? Una distilleria che ha una capacità produttiva di 7 milioni di litri l'anno che comincia ad essere abbastanza importante come produzione e va a produrre un po' tutti i whisky della gamma Yamazaki, sia quello che proviamo oggi, ovvero il Nassi, non è Statement, quello che non ha qualità. Quello da poveri. Non è da poveri perché comunque è già cominciato a avere un prezzo interessante. Anche questo tipo di whisky, soprattutto se lo si compra dall'Italia, siamo secondo me sopra i 100 euro. Io l'ho pagato 85 euro più o meno in Giappone. Se tieni conto che qua per importarlo tutto quanto ci sta alla fine pagarlo una ventina di euro in più, è normale, è normale. Oltre a questo praticamente va a produrre anche diversi whisky della stessa gamma della Yamazaki che sono praticamente il 12, il 18, il 25 anni, lo Yamazaki invecchiato in sherry cask, quello invecchiato nel legno di quercia mizunara, la famosa quercia giapponese, e quello invecchiato nei barili ex-barbon. Perché una cosa classica che si fa con il whisky cos'è? Si va a prendere dei barili dove sono già state invecchiate alcuni alcolici in precedenza, come può essere per esempio un barile di sherry, un barile dove c'è stato il barbon, un barile dove c'è stato vino porto. Succede spesso, succede spesso che le distillerie comprano questi barili dove c'è già stato un vino o un barbon in precedenza per dare un particolare carattere poi al whisky. Perché comunque il legno è stato spremuto di alcune componenti, ne ha acquisite altre da parte di questo contatto con questa bevanda. Per esempio, tendenzialmente i whisky che tendono a stare a contatto con legni dove c'è stato lo sherry avranno un po' tutto quel fruttato che comunque lo sherry lascia, capito? Per dare certe caratteristiche al whisky si gioca un po' anche sull'invecchiamento con un legno diverso o un legno che è già stato a contatto con qualche altra bevanda, insomma, praticamente. Tornando alla distilleria Mazzaki, questa praticamente, come abbiamo detto, è la distilleria più antica del Giappone di whisky ed è il luogo dove tutto praticamente è cominciato. L'abbiamo detto prima, abbiamo raccontato di nuovo la storia e dobbiamo dire che questa distilleria è assolutamente, praticamente, un esempio perfetto di una distilleria che riesce a combinare sia la quantità che la qualità. C'è una sala di distillazione che è un po' ispirata, si vede sotto, Tommaso, c'è una foto. Sì, sì, l'ho messa, avevo capito che eri lì. Questa sala di distillazione è praticamente ispirata un po' alle classiche sale di distilleria scozzesi, ma poi sono stati aggiustati una marea di dettagli e sono stati progettati tutte queste cose, praticamente, per riuscire a creare proprio quel prodotto unico, quel prodotto complesso ma raffinato che voleva creare Shinjiro Tori, no? Nonostante, cioè, nel 2005 c'è stato poi un grosso rinnovo della distilleria, sono stati spesi tantissimi milioni per andare ad aggiornare anche tutti gli alambicchi che vedete lì in figura, che io penso essere in quella stanza lì dove ci sono tutti quegli alambicchi, cioè ti trovi proprio nel cuore della distilleria, deve essere proprio davvero una figata sentirsi proprio nel cuore della distilleria dove proprio il distillato viene prodotto. E tutti questi alambicchi 16 sono quasi tutti diversi, hanno forme e dimensioni diverse per ottenere praticamente distillati diversi. Alcuni sono alimentati, diciamo, a fuoco diretto, a carbone, che anche lì ti dà un tipo di distillato che alla bocca può risultare un pochino più grasso. Alcuni sono alimentati invece a vapore, anche lì si ha un tipo di distillato diverso. Tutte queste, praticamente, ha tantissimi lieviti per fare fermentazioni diverse, tantissime botti di dimensioni e di legni diversi praticamente. Grazie a tutte queste possibilità che ci sono in questa distilleria si potrebbero creare davvero decine e decine di distillati diversi. E questo secondo me è davvero la figata, è davvero la bellezza di questa distilleria, l'unicità, tutta la tecnologia incastrata, diciamo, in un'ambientazione dove praticamente circostante abbiamo natura, abbiamo quasi posti un po' storici tra Kyoto e Osaka. Tutto questo è integrato sempre perfettamente, no, con questo concetto di integrazione che abbiamo capito anche vedendo la distilleria di Akushu. È sempre molto importante per Santori, praticamente. Oltre a questo, praticamente, la distilleria è visitabile, no, come dicevamo inizialmente, ci sono dei tour che di solito guidati che durano un'ora all'interno della distilleria. I tour dovrebbero essere in giapponese, ma c'è anche la possibilità di avere, diciamo, audioguide in diverse lingue come inglese, cinese e francese. E basta, inglese, cinese e basta, e non altre lingue. Altre lingue no, ok. Inglese, cinese e F, c'è anche la lingua con la F, se volete, che non è finlandese. Ed è presente, diciamo, anche, come vedete lì nella foto, hanno una raccolta di whisky che è praticamente pazzesca, che sono un po' da tutte le sperimentazioni che hanno fatti negli anni, tutti i distillati che hanno un po' raccolto. Penso che anche essere, tipo, in una stanza del genere, visitare una raccolta di distillati così, pazzesca, con migliaia e migliaia di bottiglie, deve essere davvero suggestivo, perché è un po' un archivio storico di tutta la distilleria, dovrebbe essere davvero, davvero emozionante. C'è anche un po' un museo all'interno di questa distilleria che ci mostra diversi riparti storici, ci sono diversi alambicchi che ormai sono in disuso, che sono stati smontati, ho visto che si può vedere anche come è fatto un alambicco all'interno, ci sono diverse cose, insomma, diversi elementi della distilleria che sono magari caduti in disuso, che sono messi nel museo per spiegare anche il funzionamento della distilleria ai visitatori. Ma soprattutto il pezzo forte è che ancora c'è la scrivania originale di Shinjiro Tori che si può vedere alla distilleria Yamazaki, che è dalla quale praticamente è nato tutto quanto, anche qui abbiamo sempre una specie di whisky bar con possibilità di degustare whisky a tutto andare, ci sono oltre 100 diversi whisky, alcuni sono addirittura proprio esclusivi per la distilleria Yamazaki, quindi anche questo dal punto di vista turistico dovrebbe essere davvero un'esperienza importante riuscire a visitare questa distilleria. Quindi essenzialmente le note sulle distillerie sono queste. Se riesci, Tommaso, sarebbe bene. Se riesco, ma non credo che sia aperta, però vediamo magari la settimana prossima se cambia qualcosa. Io sarai curioso di vedere un tuo video sulla distilleria Yamazaki, che mi piacerebbe da morire. Io invece ti dico, Michele, che secondo me... Se ci puoi andare non so se ti fanno fare il video. Ah, dici. Non lo so, oddio... Non te lo so dire francamente, non lo so. Sarebbe davvero bello, perché quello è un posto veramente da far vedere, secondo me, perché queste distillerie sembrano proprio... create proprio non solo per avere una produzione di grande qualità, di alto livello e anche grande quantità, ma anche per essere dei posti suggestivi e visitabili. Cioè, hanno pensato un po' a tutto. E questa cosa mi piace, insomma, perché si vede che dietro c'è una grande cura e una grande organizzazione. Assolutamente, assolutamente. Aspetta un attimo. Parla intanto che io mi sto allargando. Sì, sì, sì. Vai tranquillo. Comunque, ragazzi, oggi, come vi dicevo, assaggiamo per la prima volta, anche per me, perché non l'ho mai assaggiato, questo Yamazaki Distiller Reserve. Come vedete, se l'altra volta il packaging di Akushu richiamava tutto il verde, qui abbiamo il panna e il marrone, che va fortissimo, fortissimo. Per ricordare anche, come avete visto, l'edificio, la distilleria, che poi richiama praticamente gli stessi colori. Come sempre, packaging curatissimo, come vedete, con dietro tutti i dettagli relativi al whisky. Davvero trovate praticamente quasi tutta la storia praticamente dietro il packaging. Il richiamo sempre all'annata, no? Dal 1923, che sono estremamente fieri di questa cosa. E richiamano sempre the oldest distillery in Japan, la più vecchia distilleria in Giappone. Sempre scatola bellissima, no? Con la decorazione in giapponese davanti. E la bottiglia, diciamo, non è poi tanto diversa da quella dell'Akushu. Cioè, è molto molto simile, soltanto alla sua versione, diciamo, marrone. Riprende tutto quanto il concetto dell'Akushu, però. Lo riprende con un sistema cromatico, diciamo, diverso. Piace di più questa scatola, però, eh? Non lo so. Quella dell'Akushu è molto più bella. No, no, no. A me piace più questa, perché mi piacciono molto i kanji di Yamazaki. Ok, no. Su Akushu a me piaceva molto il... Che c'è della carpa. Sono molto bello. I'm back! Ciao Tommaso. Bellissimo il video dei Sakura a Meguro. Grazie Umberto, grazie a me. Davvero bello, sì. L'ho seguito anche io. Davvero bello. A parte il video che dico, vabbè, bello brutto, non lo dico io, però comunque sia... Sì, è piaciuto anche a me quell'atmosfera lì. Non tanto a Meguro, devo dire... Cioè, a me è piaciuta più Akudanshita che a Meguro. No, è tutto... Il video comunque è sempre molto suggestivo, soprattutto se uno non c'è mai stato in mezzo ai Sakura, in quel modo fa un effetto bellissimo, anche vederli da uno schermo. In un periodo come questo ci accontentiamo di vederli da uno schermo. Sì, come dico nel video, infatti in un periodo come questo almeno vi portiamo in giro. Potere pelato, grande Umberto, ciao. Ciao Alberto. Allora, lo apriamo anch'io. Lo apro anch'io. Allora, ti stavo dicendo prima, a proposito della bottiglia di action, che globalmente quella di action è più bella perché c'ha anche quel motivo invisibile. Adesso è difficile farlo vedere sotto. C'ha quasi un ricamo sotto che questa qua non ha. Però a me piacciono molto... Non so se si riesce a vedere un po' più da vicino. Così forse si vede. No, 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 dico sulla scatola proprio. Ah, ok, sulla scatola. Ma anche l'etichetta è un pochino più segmentata. Sì, è vero, è vero. Rispetto a questo che è dritta praticamente, vedi? È vero, sì. Questa è dritta, l'altra è più segmentata. Però tu hai, allora io qua praticamente, tu hai il distillery reserve, che è il nome di come viene chiamato all'estero, perché in Giappone è normale... Scusa, cambio un attimo inquadratura. Dove è maratona? Ok, ecco, vedete? C'è praticamente, mentre lui ha... Ora quando deciderà di mettere a fuoco... Sì, praticamente quella che in Giappone, diciamo, è la base di Yamazaki, per il mercato estero l'hanno chiamato di distillery reserve, ma è lo stesso whisky, praticamente. È lo stesso whisky, sì. Allora, andiamo a versarci questo whisky, eh? Eh, sì, 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 sì. Sì, io adesso sono proprio curioso già di aprirlo. Salutavi l'altro Umberto. Di vedere un po'... Già così aprirlo e sentire naso, io sono sempre curiosissimo. Quando apro la prima bottiglia... Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Prima di... Fammi bere un goccio d'acqua, perché prima mi sono lavato i denti. Sì, no, pulisciti il palato. No, ho messo anche colluttorio, sono stato uscito. Allora, se hai sentito sapori forti, meglio che ti pulisci un attimo il palato. Il crossover degli Umberti, sì. Allora, sentiamo al... All'odore com'è. Cavolo, questo... Io sento molto dolce qua. C'è il dolce perché praticamente io sento subito un po' la fragola. Ti ricorda la fragola come odore? È un po' la frutta secca. Cioè, abbiamo questo odore. Bacche secche, fragola, con delle note abbastanza floreali. Che poi se... Ok. È possibile che io ci senta tipo un caramello, una roba del genere? Può essere un pochino, però secondo me è più un tendente a uno zuccherino fruttato, perché sono quelle note che vengono dalle... Cavolo. Come è costituito questo whisky. Questo whisky praticamente lo fanno utilizzando diversi single malt che mettono praticamente da botti... Che vengono da botti diverse. Ci sono alcuni che vengono invecchiati in delle botti ex Bordeaux, alcuni in botti ex Sherry. Quindi praticamente cosa succede? Succede che lo Sherry della botte lascia un po' questo fruttato tendenzialmente, soprattutto al naso, e poi lo risentiremo un po' anche nel sapore probabilmente. Comunque guarda, veramente... Poi c'è anche una parte di mizunara in questo whisky, cioè una parte di whisky invecchiato in quarcia mizunara, che comunque ristabilisce un po' l'equilibrio. E come a nature abbiamo whisky che vanno dentro dagli 8 ai 20 anni. Quindi anche qui quando andremo a degustare saremo circa sui 15 secondi, ok? Ah, 15? Non 7, quindi come sempre? No, va un pochino di più per sentire qualcosina di più. Comunque c'è anche dei whisky un po' più invecchiati. Odore, forse, tra quelli che ho bovuto finora, forse è quello che mi ha colpito di più subito. Sì, questo ha un odore molto molto buono. Mi ricorda un po' i whisky scozzesi dello Speyside, che sono abbastanza ruffiani, sia come odore che come sapore. Vediamo se poi ce lo ricorda anche. Allora, io me lo sono già versato. Io me lo sono versato. Come vedete, questo è il whisky. Il colore è molto più potente di quello di Action. Sì, rispetto a quel giallo chiaro dell'altro. Questo è un giallo più dorato intenso, diciamo, ok? Gradazione alcolica, anche qui, siamo a 43 gradi, ok? Tipologia di whisky, un single malt, quindi viene praticamente da whisky fatto soltanto di malto d'orzo, che è stato distillato ed invecchiato nella stessa distilleria. Quindi si possono miscelare diverse botti dello stesso whisky, però appurché vengano dalla stessa distilleria e siano fatte tutte quanti di whisky di orzo maltato, ok? Quindi come c'è reale, è soltanto l'orzo maltato. Quindi questo è il nostro bel whisky. Scusa un attimo, Michele, prima di andare avanti. Ti volevo dire a Gigafab che se ha Wind è un problema suo. Purtroppo, sempre sti problemi, quando sono in live, Twitch funziona male. Comunque, andiamo all'assaggio? Sì, 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 allora cominciamo innanzitutto, come sempre, a farlo girare un pochino, farlo depositare un po' sulle pareti per andare a fare un'analisi olfattiva di questo whisky. Allora, lo facciamo girare un attimo. Lo stavo già sniffando da un po'. Facciamo evaporare un po' l'alcol. Comunque, guarda, veramente, l'odore è eccezionale questo qua. L'odore è davvero molto, molto, molto eccezionale perché, ti ho detto, io ancora continuo a sentire questo fruttato della fragola molto. Frutta secca. A me sembra un po' più dolce, cioè avverto un po' più dolce, non sulla fragola, ma sulla vaniglia, il caramello, una roba del genere. Sì. Cioè, mi dà quest'idea, ecco. Se uno sente bene, al naso c'è anche un pochino di speziato sul fondo. Sai che probabilmente quella componente dolce che c'è sui bichi viene da questo sicuramente, o forse da cita, forse. Probabilmente, un po' anche da qui. No, no, viene anche da qui la componente dolce perché comunque, in fatto, quella parte fruttata delle botti X-Sherry viene fuori. Se tu ce lo metti dentro, viene fuori. Quello è incredibile. Ok, sì. C'è qualcosa tipo, sul finale, un po' l'odore ti può ricordare anche qualcosa di particolare tipo il sandalo. La compagnia delle indie, ho venuto a mente quando hai detto il sandalo. Il paciuli e il sandalo e la compagnia delle indie. Quello speziato lì, che può ricordare un po' anche il cocco, forse. Ok. C'è comunque un whisky, davvero, che se tu lo metti al naso ti ci puoi perdere. Molto, molto, molto... No, sì, è vero, è vero. Proprio, è tremendo, veramente. È ottimo. Lo senti la differenza rispetto anche a un whisky come l'altro, no? Che magari c'era tanto la mela verde, c'era l'erbaceo, ma questo qua c'era al naso. Allora, Axo a me è praticamente la prima volta è piaciuto, ma è piaciuto dopo, di più. Ok. Ok. Allora, adesso direi di andare... 15 secondi, allora. Sì, quindi ho 15 secondi, lo facciamo girare nella bocca. Forte. Bello tosto, però minchia quanta roba che c'è dentro. Pazzesco. Io, allora, come l'ho messo in bocca, ho sentito un casino la frutta secca, soprattutto bacche essiccate, un po' di uva passa, ti ricorda un pochino quella cosa lì. Cioè, che poi degustando un po' anche, ti può richiamare un po' distante, anche un po' il lampone. Si arriva quasi ad avere un sentore di lampone. Però tutto quanto, cioè, è pazzesco. Come poi, cioè, arriva la parte del whisky che è stato invecchiato nella quercia Mizzunara. La quercia ti riequilibra tutto, praticamente. Viene fuori nettamente, si sente anche quella parte un pochino legnosa, e ti porta anche qualche sentore che può essere un pochino più speziato, che ti può dare anche un pochino di un fruttato, però non più tipo le bacche, ma si va più verso il pesca, ma una pesca leggera, tipo una pesca bianca, che non è molto saporita, ok? Un leggero pesca, e poi ci sono le spezie da bestia. Infatti, la cosa che rimane, secondo me, bellissimo nel finale, molto persistente, perché ancora io ce l'ho in bocca, e sto parlando già qui da diversi secondi, si sente la vaniglia. Si sente la vaniglia un casino. Si sente molto il dolce appena lo metti in bocca, però è forte, si sente, eh? Sì, è molto forte, si sente. Comunque, è molto più complesso, secondo me, come whisky questo, eh? Sì, assolutamente. Guarda, tanto c'è la cazzo che scrive nel mentre che voi vi sciacquate la bocca, io ho finito la bottiglia, però si sente perfettamente. Stiamo cercando di analizzarlo, non vogliamo alcolizzarci così subito. Guarda, questo qui, sì, 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 anche un profano come me, che beve da poco il whisky, e ne ha provati pochi alla fine, si sente clamorosamente la differenza tra questo e Aksho. Allora, per quanto io devo dire che i bichi rimane sempre proprio... C'è anche solamente così... I bichi per me, sai, è un blended, quindi ci sta, c'è qualcosa che ti piace di più. È stato creato apposta per essere così piacevole. Tu devi capire che se questo whisky è un whisky che viene praticamente prodotto a un certo livello, nel senso mescolando whisky da diverse botti, cioè il bichi è un prodotto tremendamente complesso, ma allo stesso tempo equilibrato, che viene fuori da whisky di distillerie totalmente diverse. Quindi è molto più difficile andare a mescolare dei whisky che vengono da distillerie così diverse, dei prodotti così diversi tra loro, perché abbiamo già sentito Yamazaki e abbiamo già sentito Akushu, che sono entrambi presenti dentro i bichi, quanto sono diversi tra di loro. Assolutamente. E poi avere alla fine un risultato pazzesco come quello che ritroviamo sui bichi, ragazzi. Questo è un accordo con te, Tommaso. Aksho è estivo per me. È molto fresco, è molto fresco, sì. Questo invece a me sicuramente piacerà anche con il ghiaccio, però questo qui, mentre i bichi con il ghiaccio diventa ancora più, questo qui non è da bere con il ghiaccio, secondo me. No, adesso vado a mettere qualche goccia d'acqua per sentire cosa c'è. No, io intanto me lo bevo liscio, tanto c'ho tutta la notte davanti, è stato quattro giorni che non bevo. Ma io oggi sono un po'... Comunque guarda, veramente molto buono questo qua, è eccezionale. Vado un po' a rilento oggi perché ho fatto il vaccino ieri, quindi sono ancora scosso. Ho fatto AstraZeneca ieri, stamattina mi sono svegliato con un po' di dolori muscolari, ma fortunatamente tutto bene, non ho febbre, niente. Infatti ragazzi, appena potete vaccinatevi, che è l'unico modo per uscire da questa situazione davvero, ragazzi. Ma guarda, Leopoldo, a me sono bastate quelle indicazioni che mi ha dato Michele qualche mese fa, più qualcosa che ho letto io per iniziare a capire un alcolico che fino a 4-5 mesi fa non riuscivo a bere. Adesso invece ti devo dire che, guarda, io a parte prima che ho bevuto quella birra con Yuri, io non bevo più la birra. Perché ormai bevo solamente questa roba qua in maniera molto moderata. Cioè, la birra, tu dici, stasera mi faccio una birra, te la bevi anche tutte le sere, il whisky no. Il whisky ne che ti fai un whisky così tutte le sere, a cavolo. Io veramente... Mettendo un goccino d'acqua, le note dolci si esaltano ancora di più. Io, mi sa che, non lo so, vuole prendere qua con il ghiaccio, ho paura di metterci l'acqua perché perché mi piace già così com'è. Sì, 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 ma già così è buonissimo. Comunque, ragazzi, davvero, questo è un prodotto di qualità pazzesca. Io non mi aspettavo davvero un livello così alto. No, è veramente buono. Perché avevo sentito parlare molto bene, però davvero un livello così alto non me l'aspettavo. Molto, molto complesso, però allo stesso tempo ci sono alcuni sentori che si sentono davvero molto, molto bene. Quindi anche se lo provate, secondo me, con un pochino di indicazioni, magari che vi lasciamo nella scheda che gli abbonati poi troveranno sul gruppo abbonati, ragazzi. Quindi, se vi interessa, abbonatevi anche per questo perché trovate tutte le informazioni sulle degustazioni. Confermo che con l'acqua diventa spaventosalmente dolce. Cioè, esalta ancora di più, sì. Cioè, anche come ti rimane in bocca, cavolo. Sì, sì, scusa. Vai avanti, io vado a prendere del ghiaccio perché questo whisky mi ha proprio messo... È ottimo, veramente. Faccio sentire anche io. Questo davvero... Qualità pazzesca, ragazzi. Qualità pazzesca. Poi lo trovate. Penso che comunque sul link di Tommaso mi sa che c'erano anche link per comprare i Yamazaki, se non mi sbaglio. Molto, molto... Davvero un whisky di grandissimo livello, raga. Io sono sorpreso e ne ho bevuti tanti, ragazzi. Per essere, diciamo, l'entry level della distilleria Yamazaki è davvero pazzesco. È davvero pazzesco, raga. Cioè, super. Erastemio. Se un Erastemio vuoi iniziare a bere il whisky, cosa devi iniziare? I Arcarous de Guitarsolo. Puoi provare con tante cose. Alla fine, il punto è questo. Cioè, se vuoi iniziare con il whisky giapponese, con tanti, abbiamo lavorato in questo percorso che stiamo facendo qui con Tommaso, abbiamo comprato la Kashi. Che è questo whisky qua, che costa intorno, insomma, tra i 30 e i 40 euro. Lo trovi. Ed è ottimo per iniziare. Tra l'altro, la Kashi lo trovi anche descritto, diciamo, in maniera un pochino più succinta nell'articolo che ho scritto per Tommaso sul sito dondake.it, sul sito di Tommaso. Dove ho scritto qui un articolo che trovate adesso in chat, praticamente, e lì vi ho scritto anche qualche indicazione per apprezzare l'Acusho. E no, l'Acusho, vai, che ce la faccio. L'Akashi, che è il primo whisky con cui siamo partiti. Questo, come whisky giapponese, questo è ottimo. Però poi, è logico, se uno vuole imparare a degustare il whisky a tutto tondo, a 360 gradi, poi è logico che si possono provare prodotti un po' anche da tutti i paesi. però il discorso qual è? Che magari se uno, se per il whisky americano, magari quando hai provato un barbon e un rai, ti sei già fatto un attimo l'idea di qual è lo stile di whisky americano. Sono anche pericolosi quelli. Se uno va in Scozia, il problema è che in Scozia c'è una tradizione mostruosa del whisky e in ogni zona tendenzialmente il whisky ha le sue caratteristiche. C'è il whisky di highlight, torvato, con quel sapore di fumo, affumicato. C'è il whisky dello Space Eye, più dolce, molto simile a questo whisky qua che stiamo bevendo oggi. E poi ci sono tutti i whisky delle Highlands, i whisky delle Lowlands, hanno tutte caratteristiche un po' diverse, diciamo. Quindi se uno veramente poi dopo vuole farsi un po' un'idea generale, bisogna che va a esplorare tutto, compreso il whisky irlandese con tripla distillazione, molto morbido. E poi dopo, ormai stanno producendo whisky in tutto il mondo, tanto che ormai c'è anche il primo whisky italiano che è arrivato sul mercato. Allora, con il ghiaccio buono, con l'acqua uguale, però secondo me... Impurezza? Ti ha stupito impurezza? Sì, assolutamente. Assolutamente. No, davvero, questo mi ha stupito anche a me, Tommaso. Io non me l'aspettavo così buono. Assolutamente. Secondo me questo non ha nulla da invidiare ai migliori whisky scozzesi dello Space Eye. Questo è davvero un prodotto di grande qualità. Ed è un normale, non è neanche un NAS, quindi non è neanche una roba che chissà quale complessità di D.E. È proprio buono. Sì, mi ha ricordato questo whisky qua, lo faccio vedere. Proprio buono, cavolo. Sì, ma meglio, meglio liscio. Meglio liscio, decisamente liscio. Però anche, anche i bichi con il ghiaccio, secondo me, Spar. Ciao Massimo, c'è neanche prima. Però Akashi Red è... Mi ha ricordato molto questo whisky qua dello Space Eye, per quello ti ho subito citato questi whisky, perché questo è un whisky che io tengo sempre a casa, che è un Glenn Farclass 15 anni, che è ottimo. Ho visto la recensione di non solo whisky. Questo è proprio un whisky super ruffiano, anche questo c'è un sacco di frutta secca, molto, molto, molto consigliato, anche questo, davvero, davvero, davvero ottimo. Glenn Farclass poi è una delle aziende super tradizionali dello Space Eye, quindi di questa area particolarmente prolifica di aziende della Scozia, no? Piena di distillerie. Ah ragazzi, molto, molto buono. Sì. Per chi volesse il whisky, se scrivete whisky ci sono quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto l'altra volta. Più c'è l'articolo con i whisky tutti consigliati. Noi siamo partiti da, io personalmente che sono sul seggerimento di Michele, un assoluto neofita tuttora, perché prima di dire dovrà passare parecchio tempo, con Akashi, che qua veramente costa pochissimo, qui costa proprio mille yen, proprio pochissimo. Da voi purtroppo costa un po' di più. Michele spiega anche questa cosa di Akashi. Sì, è molto particolare perché diciamo Akashi, quello prodotto in Giappone è un po' diverso da quello che è stato prodotto diciamo per il mercato europeo, per una questione di legislazione. Diciamo che la legislazione sul whisky in Giappone è un pochino più leggera rispetto a quella europea e quindi Akashi è un whisky che è prodotto con una certa percentuale di melassa in Giappone, mentre quello che arriva europeo è prodotto da orzo maltato. quindi anche lì c'è un po' una differenza cioè quello europeo è un pochino più secco rispetto a quello un po' più dolce che trovate in Giappone. Quello che ho io è la versione giapponese perché l'ho comprato quando sono stato a Tokyo quando l'ho visto al supermercato che costava 900 yen ho detto non ci posso credere volevo comprare subito che da noi costa 30-40 euro. Da big camera costa 1080 yen che sono quanta acqua aggiungi? Tre gocce più o meno? Due o tre gocce. puoi aggiungere diciamo da tre gocce fino a un massimo di 20 gocce cioè io adesso questo qua per spingere molto ho aggiunto un millilitro che sono 20 gocce poi io questa qua ce le trovate anche queste pipettine qua questi contagocce qua li trovate a niente ci sono ovunque ragazzi se volete anche fare questi esperimenti che alla fine sono divertenti questo si fa perché praticamente è dimostrato scientificamente ci sono degli articoli scientifici che piegano come l'acqua aggiunta all'interno del whisky è in grado di sprigionare determinati sentori che il whisky ha già ma in maniera molto più semplice quindi è un trucchetto che si usa per aiutarsi anche nelle degustazioni per andare a sentire meglio certi sapori e certi aromi diciamo comunque liscio ottimo ghiaccio buonissimo anche con l'acqua ottimo questo qui non ci farei l'eyeball però questo no 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 questo non è l'eyeball assolutamente questo è così buono che sarebbe 8 euro sono mille yen aggiungerci tutta quell'acqua circa 8 euro mille yen un esperimento forse ce lo farò comunque perché io almeno una volta l'eyeball provo a farlo no vabbè certo l'ho fatto anche con i bichi l'ho provato a farlo anche io lo faccio tra l'altro il ginger l'ho sempre mischiato con akashi mai con con questi qua mai ecco con quello lì no perché insomma sono 300 pass euro i bichi grazie per i 300 bit Xair grazie mille i bichi l'ho pagato è quello che ho pagato di più di tutti finora fino ad adesso 12.600 yen questo qua quindi circa 100 euro questo qua mentre gli altri quello meno mi pare che l'ho pagato intorno no Shita è quello che ho pagato meno Shita Shita sì Shita è quello che costa di meno comunque in quella fascia lì Shita tra l'altro per me è la bottiglia più bella di tutte molto bella sì molto molto bella lo sai ma poi anche hanno curato bene anche tutta la parte sul sito della Santory devo dire che come sito rispetto ai siti bravo bravo mai tolto le parole di bocca nonostante sia un sito giapponese il sito della Santory è fatto bene fatto molto bene soprattutto la parte dei whisky molto molto bella ci sono tanti elementi che richiamano anche diciamo la natura e i posti in cui le distillerie sono situate e usano anche delle parole secondo me suggestive in inglese bene spiegano bene tutto quanto devo dire che io lo consulto sempre molto volentieri quando mi devo rivedere alcune cose sui prodotti sì sì è bello il sito di ciao Mirn il sito di Santory è bello stranamente bello perché ogni tanto guardando anche le live di Katsuya che critica sempre beh l'abbiamo fatto vedere tante volte le fate anche te certe volte dove facevi vedere alcuni siti giapponesi che sono fatti davvero sono tutti uguali male questo devo dire che è molto 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 bello bene io adesso tanto arriverà anche dopo ma se può mando il link anche a a Matteo per farlo entrare se vuoi che è sempre interessato su questa cosa quasi ha detto che passava ma non so quando se viene il Santone è sempre un piacere allora ecco qua comunque sì veramente buono sì questo è assolutamente consigliato ragazzi perché comunque il rapporto qualità prezzo secondo me è altissimo davvero il rapporto qualità prezzo è altissimo ancora sta giocando a a Doom no a Koso stava giocando a Little Nightmare ma adesso sta giocando a Doom a Doom pensavo avevo visto prima giocava a Little Nightmare che poi è sparito non c'è dov'è si sa che ha lasciato lì in pausa ok allora aspetta finché ne esce dalla live non glielo mando se no Doom Eternal grande molto molto interessante quindi Tommaso prossima volta cita allora così mi inizio a organizzare sì 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 molto molto e cita mi ha già bevuto una bottiglia a casa quello già lo conosco io l'ho usato tantissimo me lo son bevuto anch'io con liscio eyeball non questo questo che ho in casa ancora è in tonso con un amico qualche settimana fa perché da Tori Kizoku siccome è come dire penso che sia convenzionato con Santori perché vendono la birra di Santori diciamo il top di whisky di Santori che hanno è il cita non hanno altri whisky di Santori però e ci fanno l'eyeball con il cita perché l'eyeball è perché il cita è molto d'eyeball è il whisky delle donne in Giappone se ti capita comunque visto che comunque vai a Kyoto a Kyoto c'è anche la Kyoto Distillery che mi ha detto un amico che fanno un whisky clamoroso un gin clamoroso te cambi anche il gin e il gin tonic ma io sai che a me in realtà il gin non è che piaccia molto liscio però mi piace in maniera esagerata il gin tonic il gin tonic ma ci sta quello è quello che mi ha detto che lui là si è bevuto dei gin pazzeschi quando è stato e c'è questa distilleria a Kyoto che si chiama proprio The Kyoto Distillery se ti capita se magari è chiuso è chiusa Akush e vuoi vederti è chiusa Yamazaki vuoi vederti qualcos'altro quella potrebbe essere una cosa carina cita invece ah sì ciao Fran scusa non sono dimenticato di risponderti chi è che è? ah Nikka ok ancora alle 7 più o meno verso le 7 sì Nikka è tuttora una parola che non si può dire quindi scusa scusa se avvi messo la sblocchiamo quando facciamo la live su Nikka adesso Nikka è sempre così viene automoderata perché assomiglia a una parola brutta insomma ecco che non si può dire ovviamente leopoldo io di Nikka ho assaggiato sia il coffee malt che il coffee grain sono entrambi due whisky molto molto piacevoli cioè anche Nikka parliamo di whisky diversi rispetto a Santori perché come ti ho spiegato prima sono stati creati proprio con una filosofia diversa che era la filosofia di seguire quella scuola scozzese e avere diciamo un sapore più strong più rispetto a questi whisky che sono così morbidi così equilibrati che ti coccolano quasi i whisky di Santori sono belli per quelli cioè te li metti in bocca e ti senti coccolato ti senti felice quindi Nikka avremo qualcosa di più strong diciamo che anche lì è sempre molto interessante perché comunque sono whisky comunque molto originali io lo sai che sono sì sì scusa vai vai no no dimmi niente vai vai no sono whisky molto originali perché poi comunque la produzione si è differenziata una volta che sono stati in Giappone e hanno creato poi i loro prodotti con i loro brand e con le loro caratteristiche io sono sai sono molto incuriosito invece da una da una cosa che non è né né Nicca né Santori ma è il kamiki questo lo potremmo fare questo lo potremmo fare Tommaso questo è molto buono molto particolare perché anche qui diciamo che hanno fatto questa cosa per la prima volta andare ad utilizzare come legno il cedro giapponese e qui si sente molto il cedro ragazzi e tra l'altro mi sa che avevo fatto anche un video su youtube dove parlavo di questo perché mi aveva colpito proprio appena l'avevo provato e forse l'ultimo video che ho fatto sul whisky dovrei tornare a farne che è un po' che è latito ultimamente parlo sempre di fumetti perché sto leggendo tanto che sono a casa che non faccio un cavolo quando la sera così quindi alla fine cosa fai? Leggi prima facevo più video sul whisky perché magari uno usciva assaggiavi qualcosa anche i miei amici che hanno il bar qui hanno tante bottiglie diverse da provare quindi è sempre bello anche lì infatti c'è la mia pagina su instagram dove mettevo tutti i whisky che lì è praticamente ferma perché se non posso uscire non posso andare al bar a fare il mio solito tour e magari raccontare che qui si può il mio discorso era volevo fare una pagina dove raccontavo qui si può trovare questo per gli appassati di whisky della mia zona capito? senza pensare a chissà che cosa di internazionale però mi piaceva come cosa di aiutare le attività in questo modo che chi promuoveva il whisky e portava la scelta diciamo nel suo locale ogni tanto andava a berci e raccontavo che cosa hanno da bere insomma che cosa hanno da bere e raccontavo che cosa hanno da bere